Buonasera a tutti, buongiorno, buon pomeriggio E come vi avevo promesso, nel post della community, oggi faremo l'unboxing di questo bellissimo zaino della Trabucco, il Competition XTR, questo è il modello quello grande, è secco, pure mio padre è fatta una E niente ragazzi, ora vi farò vedere lo zaino più vicino, vi farò vedere tutte le tasche, come l'ho messo io, le cose che ho messo all'interno, le taschette, come l'ho composto io, va bene ragazzi Oggi ho l'assistente, l'assistente personale, che mi aiuterà a provvedere lo zaino, l'aiuterò a provvedere lo zaino Vabbè ragazzi, io vi faccio vedere lo zaino da vicino, ci facciamo vedere lo zaino da vicino Esatto, esatto Esatto Ragazzi, vi sto facendo vedere lo zaino da vicino, da vicino come ho detto poco fa Vabbè da vicino Se lo potete portare a mano, fallo vedere papà A mano A mano Lo spallaccio Lo spallaccio C'è lo spallaccio, mettiamo di nuovo, qua dietro c'è una tasca ragazzi Una tasca Aspetta, fallo vedere, qua dietro Qua dietro c'è una tasca Vedete? E noi in questa tasca ci mettiamo lo spallaccio E poi abbiamo le bratelle Le bratelle Le bratelle Le bratelle Le metti in spalla Come le catinelle Ok Lo zaino ragazzi esce con cinque vaschette Una Due Tre Quattro E cinque Ripetiamo Cinque vaschette Io le ho abolite perché ho messo qua dentro tre vaschette Dato che io ho la valigetta della Plano Tre Tre vaschette della Plano Che poi vi faccio vedere come le ho impostate E oltre cosa ho messo, ho messo altre cose Va bene Ora andiamo a vedere nel dettaglio Come l'ho impostato io Che io faccio Noi Ho la velina Ho la velina Ho la velina Ho la velina La mia velina Aaaa La velina Allora si leva lo strappo della maniglia diciamo Che si può abolire Ok Intanto qua sopra C'è anche una piccola va bene ho la velina ho la velina ho tagliato la benicure si apre qua c'è lo spazio quello che volete mettere mettete un pochettino un telefonino un telefonino e poi un panino quindi caccia ne ha metto lo panino carinzo caccia avete metto lo panino l'acqua una bottiglietta d'acqua e panino spumato tutto cosa carina do tenendo di mangiare ovvio piatto digestivo opero qua guarda si chiude si chiude ora andiamo facciamo vedere la parte superiore si apre la parte superiore come velina vicciotti è bravissimo come velina ok ecco ci sono queste due diciamo tasche mio padre gli ha messo 856 batterie 8000 batterie lampadine lampeone però qua ci mette quelle cariche si chiude cariche giusto si si e poi lui quando si scarica li va a mettere qua qua scariche attivo passivo positivo negativo qua potete mettere quello che volete ma strappo qua che ci vuole mettere cariche i mottini che ci vuole mettere batterie no loro tu i pentisti batterie allora che cosa possono mettere sigarette mottini patatini 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 potete mettere le bobbine se non potete mettere quattro murinelli ma le bobbine servono servono non li possono mettere bobbine io essendo che lo può fare sempre 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 a chi mette le tempi fare un shock leader mettiamo le mie bobbine quindi io ho messo qua tre murinelli ragazzi e vi faccio vedere il perché cosa abbiamo fatto noi noi io io lui io tre murinelli bello 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 poi chiudiamo si vede si si vede che si vede guardate con quale maestria chiude lo zaino ragazzi vuole pure amore dai poi qua abbiamo il porta occhiali ragazzi oppure caramelle cioccolatini vuoi vedere che rigido ma fa vedere che rigido sentite rigido è bello rigido si può chiudere si 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 può chiudere o vuoi fare vedere prima questo uguale no no prima andiamo qua ci sono queste tasche tasche qua potete mettere una penna la penna e qua invece ovvi chiudi chiudi vedete vediamo se si vede io qua io ho messo la lampadina ovvi ragazzi ovvi la lampadina ovvi ovvi si chiude si chiude ok e andiamo a verificare questa pittura questa cerniera ragazzi questa cerniera all'apertura c'è uno due tre quattro e cinque o quattro e cinque baggante sono cinque come si chiamano queste tasche che tasche volendo si possono levare levare perché c'è gli attacchi gli attacchi fallo vedere aspetta vediamo se accendiamo ok o l'attacco ci sono gli attacchi gli attacchi che si aprono e si chiudono e questi li potete levare ma io l'ho lasciato per una comodità e per un ordine ordine ecco cosa abbiamo messo i fili 50 e 45 tutti i belli ordinati ragazzi guardava ma questo manco lo sapevo ci sono pure gli elastici guarda cosa ci possono mettere gli elastici vediamo potete i posati i posati i posati e potete di cucchiare coppina i coppina si chiude con maestria ragazza con maestria guardate la maestria la maestranza i maschunze comunque andiamo aspetta vediamo se accendiamo forse così è meglio andiamo nella tasca più grande dove ci sono le vaschette sotto l'albero cosa c'è sotto gli occhiali voglio dire porto occhiali come sotto l'albero sotto l'albero allora ragazzi tre vaschette come vi ho detto uno due e tre perché queste diciamo le abolite perché ho messo la plana che io ho la valigetta della plano plano si leva questo guardate come blocco e che ho fatto io levando queste tre vaschette ho messo il mulinello qua c'è un mulinello quanto bobine ci sono tre bobine ragazzi quindi abbiamo quattro mulinello e tre aspettate qua sopra posso mettere altre bobine ecco qua ci sono vi faccio vedere direttamente qua i agolineschi i ami mini travi poi cosa c'è leva questo ok ma c'è bisogno che riesci qua ci sono le parature e i sganci rapidi e qualcosa abbiamo i piombi il cavetto d'acciaio eccetera 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 si chiude si mette qua lo strappetto e qua abbiamo un'altra bella cerniera grande uno scompartimento grande fai vedere papà l'apertura sentite il rumore ora un po' di addio un po' di addio ecco io ho messo paraditi e i scottici scottici o mia e il filo elastico il dopo la mano la maturci o slavatore una penzetta e ancora ci vanno cosent'è andrea vado a fare vedere le tasche laterali aspetta di nuovo il peritino il peritino non so se si è sentito ma penso di che si è sentito va bene chiudi vuole vedere come si chiude con facilità come fa qua il peritino ne fa ora vediamo te lo faccio sentire mia chissà il peritone arrivate il suo brazzo chi si chiama felippo è silenzioso all'inizio sento va bene chiudere ok qua abbiamo messo noi cappellini quanti ci sono pure i lasciacolli ma l'abbiamo levati perché ci servono anche per uscire un soffizio nell'altro lato l'altro lato si nell'altro lato ecco qua ci sono gli altri cappellini gli altri cappelli e le facciarolli ok ora faccio vedere il contenuto dall'interno cosa abbiamo messo non mi chiede ok qua si apre qua sono le cerniere uno e due e volete si potete aprire una parte parte o l'altra dovete aprire tutte per farla vedere tutta e a strap guardate vedete diventa unica diventa unica fai vedere cosa ho messo qua ho messo qua c'è la led lancer ragazzi c'è questa di qua poi c'è pure questa è la tartaruga l'ha avuta led lancer non è sempre chi ti dice lì lampadina quindi ci sono uno o due due si fa vedere anche ci si fa vedere pure questa lampadina allora a questo punto chi si mette all'otto una tartaruga un paio di skype qua l'ho messa nel sacchettino qua abbiamo la led lancer non accendere perchè non si vede niente ok la puoi posare e la tartarugina la tartarugina la tartaruga no mettila all'ultimo perchè l'è bella sotto l'entà come dai troppo lei troppo lento si troppo ciao ciao ok questo poi sicuro così a strappo tom così e poi decidete se aprirla a metà o tutta unica andiamo a vedere all'altro lato sempre sempre la stessa cosa ma io ho commesso diciamo l'attrezzatura per fare i video qua c'è il microfono poi cosa ci abbiamo per fare la luce per metterla nell'attacco del telefonino a focalizzare se ne sono due e in più poi c'è pure dove però è messo alloggiato il telefonino ce l'ho io poi va messo anche qua ragazzi e questo è anche il secondo scomparto niente ragazzi questo è tutto diciamo la brabam cc ecco come l'abbiamo composto noi esatto dai lo zaino lo mettete bello in spalla bello 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 in spalla così bello comodo comodo guardate l'avete visto l'abbiamo levato lo zaino dove mettevamo i panini le lampadine tutte cose qua esatto la valigetta non ce l'abbiamo quindi non volevano pochettina più in mano sempre liberi per fare i giommati esatto va bene ragazzi ora ci vediamo per i saluti da ultima panoramica dello zaino ragazzi vi ricordo che qua c'è sempre una cerniera una tasca non una cerniera una tasca questo è lo zaino trabucco xtr competition perché poi ci sono vari vari modelli in omaggio vi regaliamo il bambolotto il bambolotto il bambolotto ci sia bello che ragazzi spero che questo video vi sia stato utile avevo messo la fotografia appunto che dovevo fare lo zaino ho visto che eravate molto interessati per fare il video dello zaino appunto perché anche prima di acquistarlo dicevo cercate alcuni video appunto per vedere lo zaino sarà bello grande non ce n'era c'è soltanto uno non lo so se in giapponese in spagnolo lo far vedere poi in italiano tunisino in italiano sono l'unico a farvi vedere di perché chi lo conosce già sanno c'è bisogno del video naturalmente spero che questo zaino vi piace ve lo consiglio tu lo consigli ve lo consigli come bello 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 grande bello bene ragazzi onestamente è grande comodo spazioso ordinato perché molto ordinato avete visto le vaschette nella tasca ci sono pure gli scompartimenti dove io ho messo ho messo le lente come diceva dovevo far fuoco barino a fai da i tecnici che si voti e niente ragazzi un abbraccio a tutti un saluto all'amore mio monica ea tutto il mio gruppo sempre casa live palermo ragazzo se vi fa piacere ragazzi iscrizione campanellina e live se vi fa piacere se non mi fa piacere le pacienze non ci posso fare niente ragazzi un abbraccio a tutti al prossimo video sperando di andare a pescare ragazzi speriamo